La Lube Civitanova batte 3-1 il Neck Roseler in questa prima giornata della Pule dei Champions League 25-18, 25-18, 24-26, 25-17 Osmani Guantorena, uno dei protagonisti della partita Gara che avete dominato per tre set, tranne il terzo Sì, siamo partiti bene, poi loro sotto 2-0 Hanno rischiato un po' la battuta, giustamente hanno preso un po' di ritmo L'opposto è andato, hanno difeso più di noi E hanno vinto il set Poi noi siamo in quarto, noi siamo partiti bene E niente, siamo riusciti a chiudere la gara L'importante è per noi partire bene Lo sapevamo che non era facile, è una squadra che lotta, difende Soprattutto batte bene e flotta, quindi per noi va bene così Avversari facili in Europa non ce ne sono Neck sembrava all'inizio una squadra in difficoltà Poi però una squadra che non ha mollato mai Sì, è una squadra che gioca la Champions Ovviamente è una squadra del livello Poi io non ho visto nessuna squadra adesso in questo periodo Che non gioca a palla, tutti giocano Se non sei concentrato, non giochi bene Rischi da perdere Quindi sarà così con tutti Poi con noi, tutti vengono qua Volevano fare anche bene Quindi figurati, è così Che ruolo potete avere in questa Champions League? C'è voglia di ritornare a essere protagonisti? La Lube va anche dalle Final Four dal 2009 Sì, noi intanto pensiamo una partita alla volta Quindi adesso c'è Latina Poi c'è Pado Insomma, pensiamo una partita alla volta Però di sicuro abbiamo le potenzialità per andare avanti E lo faremo, di sicuro